Per il livello 12-15 anni l'ASC ha fatto un livello 83 e per la 19-19 anni l'ASC ha fatto un livello 87. Siamo a fare la presentazione, quindi con un livello materiale di due parti, un po' d'allo tanto l'argentino. Per il livello 18-19 anni l'ASC ha fatto un livello 13-25 anni l'ASC ha fatto un livello 80. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.